A bolito il sale negli asili nido milanesi, i bambini non mangiano più. Il caso è scoppiato a pochi giorni dall'entrata in vigore del menù estivo che prevede piatti meno saporiti. Per capire quello che è successo bisogna fare riferimento alla decisione di Milano Ristorazione, la partecipata del comune che gestisce le mense dei nido, di accogliere una direttiva dell'Agenzia di tutela della salute della città. Direttiva che elimina dalla cucina delle mense e degli asilo il sale aggiunto, così da abituare i piccoli fino ai tre anni al gusto naturale degli alimenti. Molti bimbi però, non essendo preparati a mangiare piatti totalmente insipidi, hanno preferito digiunare. I genitori contestano la comunicazione tardiva dei cambiamenti in tavola. Io, mamma, ci avrei riflettuto un attimo, avrei provato già magari a fare le pappe a casa senza sale. Inoltre i genitori chiedono piccoli accorgimenti che possano invogliare i bambini a mangiare anche senza sale. Si usa qualche spezia, cioè ci sono i mezzi per dare comunque il gusto anche senza il sale. Il dottor Giuseppe Morino, aderente a un tavolo tecnico del Ministero della Salute per rivedere le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica, spiega che l'eliminazione del sale aggiunto è una scelta di tipo salutare, ma che esistono dei modi per aiutare il bambino ad accettare il cambiamento. Fino a due anni di vita le indicazioni sono che il sale non va aggiunto se vogliamo prevenire il sovrappeso, l'obesità, l'ipertensione. A casa cominciamo a fargli anche noi un cibo salutare senza sale, ma presentiamolo in una bella presentazione con un piatto bello colorato, eccetera. Il bambino si abitua, è stimolato dal colore, quindi dalla vista, dal potere toccare quel cibo. Si abitua anche ad un gusto meno salato che significa salute in futuro. Grazie a tutti.